Siamo giusti, non possiamo certo dire che siano fascisti, anche se un po' ce l'hanno quegli ebrei, questi ebrei tutti un po' banchieri, un po' tedeschi, le lobby si sa, ma non possiamo certo dire che siano fascisti, anche se per prima cosa vogliono chiudere i campi Raon e bloccare l'accoglienza ai dannati dell'Africa, insomma un po' ce l'hanno con i negri e con gli zingari, però non possiamo, siamo giusti, certo dire che siano fascisti, anche se hanno un ministro della famiglia che ama il patriarcato e odia i gay, le lesbiche, i diversi, insomma un po' ce l'hanno con gli omosessuali, ma siamo giusti, non possiamo certo dire che siano fascisti, anche se mostrano simpatie per paesi che imbavagliano intellettuali e giornalisti scomodi, insomma un po' ce l'hanno con i dissidenti, ma siamo corretti e no, non possiamo certo dire che siano fascisti, anche se ce l'hanno con i brei, i negri, i zingari, i omosessuali, i diversi e i dissidenti, è tutta una coincidenza, siamo in tempi postmoderni, stimolanti, ricchi di grandi novità, perciò siamo giusti, non diremo mai che siano fascisti.